Si uscirà ad offerta nello spettacolo Francesco Polvere di Dio atteso sabato 28 marzo alle ore 20.45 al Teatro Comunale di Gubbio promosso da Civiltà Etica in collaborazione con la Casa di Accoglienza di Via Piave e Bernadette Subirò con protagonista Riccardo Tordoni. Un ingresso libero per accogliere quante più persone possibili, un'uscita ad offerta per raccogliere fondi a favore dei più poveri in linea con lo spirito dello spettacolo. Ritorna a Gubbio ma per la prima volta a teatro lo spettacolo che debuttò il 3 ottobre 2013 alla Abazia di Sitria e che in questi anni ha girato chiese e piazze di Umbria, Lazio e Toscana che vede in Francesco Tordoni accompagnato dalle musiche di Paolo Ceccarelli suonate dall'orchestrina di Ascoli Piceno il narratore della storia di Francesco in un resital che cambia continuamente da spettacolo a spettacolo raccogliendo le sollecitazioni del pubblico e del luogo. Non racconto la vera storia di Francesco, ha detto Tordoni, anche perché qual è quella vera? Racconto piuttosto il percorso fatto dalla sua anima cercando di attualizzarlo con la realtà odierna. Un testo dunque in fieri che ha trovato il plauso del sindaco Stirati nel giorno della sua presentazione perché ha detto il primo cittadino ci restituisce un Francesco lontano dagli schemi ageografici, molto più vive ed attuale. Francesco Polvere di Dio, ha detto Gianluca De Gennaro di Civiltà Etica, è un progetto dove lo spettacolo teatrale è solo un tassello di un percorso che nasce dalla casa di accoglienza di Via Piave volta a riscoprire il concetto di fratellanza e riconciliazione. Gubbio, che punta in questi ultimi mesi nella riscoperta delle sue radici francescane anche grazie ad un protocollo di intesa con la città di Assisi, rappresenta dunque un laboratorio ottimale per attualizzare questo messaggio. Annunciato nell'occasione odierna anche il calendario della terza edizione del Festival di Civiltà Etica atteso a Gubbio dal 2 a 4 ottobre, anteprime due spettacoli musicali l'11 aprile alla Casa della Misericordia con un testo di Claudia Fofi 23 aprile al Fusion con il cantautore Roberto Pezzini.